un caro saluto a tutti da casa milana dalla sede rossonera dove si continua a lavorare sul calcio mercato sulla costruzione della squadra della prossima stagione in attesa naturalmente dei rinnovi di contratto di paolo maldini e frederick massara che non sono assolutamente in dubbio ma sono attesi per questa settimana al massimo settimana prossima ma la dirigenza sta comunque lavorando attivamente sul calcio mercato per chiudere le operazioni in entrata ma anche le operazioni di rinnovo in milana sta lavorando su diversi rinnovi innanzitutto quello di rafaleau ma anche quello di benasser non ci dimentichiamo la questione ibraimovic anche lui deve comunicare la sua decisione quindi eventualmente rinnovare di un'altra stagione e poi anche giocatori che hanno delle scadenze un po più lunghe ma comunque andranno a prolungare il contratto con il milano e mi riferisco soprattutto a tomori anche se non sembra una cosa imminente ma bensì caluro ecco per quanto riguarda calulu il difensore francese ha parlato a telefoot secondo me ha rilasciato delle belle dichiarazioni delle bellissime dichiarazioni d'amore nei confronti del milano calulu dice stiamo parlando del rinnovo del contratto con il club con i miei rappresentanti quando giochi in una squadra così vincente voi assolutamente rimanerci quindi è una bella dichiarazione nei confronti del milano del progetto milano che gli ha dato fiducia servirebbero più calulu nel mondo del calcio giocatori riconoscenti rispetto a quello che è stato fatto nei suoi confronti e anche quello che lui ha dato al milano perché secondo me calulu ha dato tanto a questa squadra servirebbero più calulu e meno giocatori invece che vanno a chiedere soldi a battere cassa magari a pensare al milano solamente come squadra trampolino di lancio per poi arrivare in un altro club ecco servirebbero sicuramente più giocatori e più ragazzi come calulu con la testa sulle spalle giocatore davvero molto responsabile molto maturo nonostante la giovane età pensate solamente un 21enne pierre calulu che ha dimostrato di poter indossare alla grande la maglia del club alle mie spalle la maglia rosso nera quindi sta trattando il rinnovo di contratto lui a scadenza nel 2025 dovrebbe prolungarla fino al 2026 altrimenti da luglio in poi potrebbe anche prolungare fino al 2027 con adeguamento di contratto perché calulu attualmente guadagna solamente 400 mila euro netti a stagione e naturalmente il milano vorrebbe premiarlo con un aumento almeno fino a un milione un milione e mezzo quindi si sta parlando con il milano come stesso lui ha confermato questa intervista dice stiamo parlando del rinnovo del contratto con il club con i miei rappresentanti rappresentanti di calulu che nei giorni scorsi sono venuti qui a casa milan a parlare proprio con la dirigenza rossonera con maldini e massara e presto molto presto ci sarà quindi l'ufficialità del rinnovo di pierino calulu così come viene chiamato anche dai compagni di squadra in quel di milanello oggi è arrivato anche il comunicato da parte del liverpool dia addio definitivo a divoc origi è un è un ringraziamento più che altro del liverpool nei confronti di origi e liverpool dice grazie per gli incredibili otto anni di servizio e per averci lasciato tanti ricordi speciali divo corrigi leggenda del liverpool quindi l'attaccante del liverpool molto presto sbarcherà in italia a milano per svolgere le visite mediche quindi poi per firmare qui in sede a casa milana con la nuova maglia rossonera questione solamente di tempo e di programmi anche perché origi sta svolgendo un programma di riabilitazione prima di sbarcare in italia una riabilitazione fisica atletica perché ha avuto degli un infortunio muscolare proprio qualche settimana fa infortunio muscolare che gli ha impedito anche di giocare la finale di di champions league con il liverpool quindi appena terminerà questo programma di recupero per quanto riguarda l'infortunio sbarcherà a milano visite mediche con i rossonieri e quindi la firma con la squadra di milano la prima squadra di milano campione d'italia per la diciannomesima volta proprio quest'anno con lo scudetto vinto in questo campionato quindi milan che sicuramente rinforzerà l'attacco con origi ed è il primo acquisto insomma per quanto riguarda l'attacco rosso nero farà coppia con olivier girou tra l'altro la cosa particolare che il milan nel giro di due anni è andato a prendere due giocatori in attacco dalla premier league quindi olivier girou dal dal celsi e divoc origi dal liverpool da due delle più grandi squadre in questo momento in premier league oltre naturalmente è lo united e il manchester city che sono le altre due grandi big quindi o milan è che si rivolge alla premier all'esperienza della premier league per rinforzare il parco di attaccanti sarà l'ultimo acquisto in attacco lo scopriremo secondo me tra qualche settimana quando ci sarà la risposta di slatan ibrahimovic se ibra dovesse proseguire il suo rapporto con il milan sicuramente anzi difficilmente il milan andrebbe a prendere un altro attaccante qualora invece ibra non dovesse proseguire il rapporto con il milan per svariati motivi allora in quel caso il milan potrebbe andare su un altro attaccante su un ulteriore attaccante oltre il belga ventisettenne divoc origi e oltre ovviamente oliviero come lo chiamiamo noi a milano come lo chiamiamo come lo chiamano i tifosi del milan olivier girou che è stato un grande protagonista del della vittoria del milan dello scudetto del milan con gol pesantissimi quindi movimenti anche in attacco come abbiamo detto con origi che ben presto arriverà a milano per le visite mediche chiudiamo il video con le parole rilasciate da Ivan Gazzidis amministratore delegato rosso nero a The Athletic lui è tornato a parlare dell'arrivo di Redbird Capital che diciamo questo fondo americano che quasi una settimana fa poco più di una settimana fa chiudeva il signing con Elliot per l'acquisto di quote di maggioranza ricordiamo che il closing verrà ultimato entro il mese di settembre e Gazzidis per quanto riguarda il fondo americano Elliot dice le persone interessate al club quindi Redbird sono interessate per quello che è stato fatto al milan in questi anni non è un club in cui qualcuno arriverà e dirà sentite abbiamo bisogno di un cambiamento radicale di direzione e quindi lo facciamo francamente sarebbe una follia cosa ha voluto dire Gazzidis ha voluto dire che con l'arrivo di Redbird non ci sarà un cambio radicale la filosofia del club resterà sempre la stessa acquisti mirati acquisti giusti acquisti comunque con intelligenza senza sprecare denaro inutilmente qui subentra la dirigenza subentrano le scelte fatte da Maldini e Massara scelte di due dirigenti comunque molto competenti ecco perché si va avanti tutti insieme si va avanti con il coinvolgimento di Maldini Massara Moncada lo scouting Gazzidis stesso tra l'altro Gazzidis ha anche un contratto fino a novembre quindi cosa ha voluto dire l'amministratore delegato del milan che l'arrivo di Redbird è stato è arrivato Redbird proprio perché già piaceva la filosofia che c'era al milan e si a continuità questa filosofia andando però ad alzare il livello della rosa questo è importante specificarlo il milan alzerà il livello della rosa con degli acquisti importanti sappiamo che arriverà Origi sappiamo che arriverà molto probabilmente Renato Sanchez dal Lille spesa attorno ai 18 20 milioni di euro qualche difficoltà in più per Botman a causa di questo inserimento forte del Newcastle con il Lille ma lui ci spera lui ha dato parola al milan vorrebbe davvero venire al milan vediamo se alla fine si concretizzerà questa operazione oppure il milan andrà su altri difensori per rinforzare comunque il reparto arretrato perché uno degli obiettivi del milan è prendere un un altro difensore poi ci sarà l'arrivo di un trequartista l'arrivo di un esterno destro insomma l'intenzione del milan è di migliorare la rosa di Stefano Pioli perché l'anno prossimo oltre a puntare allo scudetto il milan vorrà puntare anche ad andare più avanti possibile in Champions League e con Paolo Maldini vi assicuro che la cosa è sicuramente realizzabile visto che lui in passato ne ha vinte di Champions League